nessuno proviamo bene bene abbastanza allora buonasera grazie per essere intervenuti io devo personalmente ringraziare ovviamente arianna e chris che mi hanno dato che a parte che mi invitano praticamente ogni anno quindi ho esaurito gli argomenti non sono così prolifico ma quest'anno arianna ha veramente estratto dal cilindro un bel regalo e quindi mi ha chiesto di fare ma non direi il discussant mi sembra mi inorgoglisce troppo diciamo di fare il regicoda di uno dei maggiori editorialisti italiani Sergio Rizzo tra l'altro su questo libro il pacco che parla chiaramente di quanto è solido di quanto si è dimostrato solido nel corso degli anni il nostro sistema bancario ovviamente chi non mi conosce potrà pensare che io sia serio che abbia ambizioni politiche diciamo sono serio mediamente ambizioni politiche continuano a averne perché dico questo quanto è solido il sistema bancario italiano non voglio rubare tempo ovviamente a rizzo perché il libro è suo però nella mia come dire attività che attività pubblicistica ma è anche un'attività professionale perché io mi occupo di gestione di patrimoni e fondi comuni più o meno da un quarto di secolo per cui per hobby così scrivo e ho questa attività dove sfogo le mie frustrazioni quasi quotidianamente o anche in radio e su testate giornalistiche mi è venuto in mente un po' di anni fa quando iniziò diciamo la rumba sui mercati e la grande crisi la grande recessione una delle più celebri frasi diciamo della storia contemporanea della repubblica italiana che era di Giulio Tremonti le banche italiane sono solide perché non conoscono l'inglese quindi mai frase diciamo fu più come dire auto auto yellatoria nella storia perché effettivamente molti capi di quelle banche non conoscevano l'inglese e questo proposito a me viene in mente un altro evento molto interessante che ascoltai su radio radicale una delle udienze di uno dei processi all'ex presidente di banca montepaschi giuseppe mussari dove il pm gli chiese che dimestichezza avesse con la lingua inglese lui rispose seraficamente poca quindi se c'erano come dire dei contratti nascosti in cassaforte ed erano pure scritti in inglese si poneva effettivamente un problema per il presidente di quella che all'epoca era la terza banca italiana cosa è successo in questi anni è successo un po' di tutto no è successo che è stata approvata una direttiva europea per limitare diciamo i bail out quindi l'esborso pubblico in caso di dissesto bancario è successo che i nostri legislatori nazionali hanno recepito questa direttiva dopo una gigantesca dormita collettiva infatti il 22 novembre del 2015 con la risoluzione delle quattro banche minori poi ci fu la famosa levata di scudi dicendo che praticamente era praticamente stato un agguato contro queste banche alcune delle quali da circa due anni due anni e mezzo cercavano disperatamente di trovare dei compratori perché erano già commissariate o fortemente dissestate io per motivi professionali ho seguito fortunatamente da lontano e non come investitori la vicenda di una delle quattro banche risolte è da più o meno due anni e mezzo che sui giornali si leggeva con frequenza regolare sta arrivando una cordata una cordata di imprenditori poi sarebbe interessante capire come fa un imprenditore a fare anche il banchiere cioè un lieve conflitto di interessi conflitto di interessi che è il filo conduttore di questo libro se vogliamo dire uno dei fili conduttori il conflitto di interessi è la regola le consulenze inutili e i favori e gli amici all'ordine del giorno la trasparenza è una fastidiosa incombenza da evitare io mi riconosco completamente in questa frase avendo vissuto dall'interno alcune situazioni problematiche e critiche di realtà bancarie italiane e so esattamente cosa vuol dire nella carne, nel sangue e nell'anima delle persone che sono rimaste coinvolte loro malgrado in questi dissesti una frase di questo tipo cioè tutte le astuzie, i conflitti di interesse, gli amici degli amici i consigli di amministrazione delle banche inzeppati di gente che era praticamente incapace di capire cosa facesse una banca e come si potesse limitare il rischio ma erano legati agli amici degli amici da lì è successo tutto quello che è successo chiaramente la mia è una sintesi brutale ed estrema sono certo che statisticamente non pochi tra voi saranno convinti che in realtà quanto accaduto negli ultimi 3, 4, 5, 6 anni in Italia è frutto di un complotto ordito da potenze esterne che stanno cercando con ogni mezzo e in ogni modo di depredare il nostro splendido paese per quanto mi riguarda chiaramente non impongo la mia visione a nessuno credo che la situazione sia un po' diversa credo che molte delle nostre banche senza voler negare la violenza e la profondità della crisi che è stata esacerbata in alcuni passaggi da condotte irresponsabili effettivamente di alcuni governi esteri resta il fatto che molte nostre banche sono arrivate all'appuntamento con il loro destino banche che hanno fatto della erogazione del credito allegra una ragione di vita garanzie che c'erano e non c'erano una passione smodata e patologica per l'investimento immobiliare che poi non a caso si è rivelato e si è dimostrato la più pesante pietra al collo di queste banche e dei loro azionisti un sistema amicale, relazionale, di comparaggio che fin tanto che c'era una parvenza di crescita ha retto anche perché le banche fingevano che prestiti che oramai erano pesantemente incagliati fossero ancora in bonus dopodiché quando si è prosciugata l'acqua nell'acquario come diceva Warren Buffett si è visto che stava nuotando senza costume e c'è stata questa enorme teoria di fallimenti, dissesti, salvataggi e quant'altro di queste realtà la realtà che resta ancora oggi in una condizione di criticità persistente è Banca Monte dei Paschi perché ora è al 68% posseduta dal tesoro italiano domani ci sarà un evento importante che è l'Assemblea nella quale verrà discussa l'implementazione e lo stato di avanzamento del piano industriale e anche lo stato dei conti la banca sta cercando di deconsolidare una quantità imponente di sofferenze nel senso che sta cercando di liberarsi di questa zavorra con delle tecnicalità sulle quali non intervengo per non rubare ulteriore tempo ma come vedete anche dall'andamento del prezzo del titolo ci sono probabilmente in qualche angolo delle criticità che persistono tipo una redditività ancora largamente insufficiente anche a causa dei bassi tassi di interesse e probabilmente ancora il mercato teme che possa esistere tra i crediti incagliati una qualche massa che rischia non di ritornare in bonus ma di migrare nelle sofferenze in quel caso sarebbe un ulteriore problema naturalmente ampia parte della classe politica attuale ha chiesto a gran voce da alcuni anni la nazionalizzazione di Banca Monte dei Paschi e ora ce l'hanno davanti agli occhi per cui vale sempre il vecchio motto attenti a quello che desiderate potrebbe avverarsi io credo di aver parlato decisamente troppo per cui lascerei scusandomi la parola a Sergio Rizzo ma io sono un po' in difficoltà a parlare di situazioni specifiche perché mi sono infilato così tanto in profondità in queste vicende che si rischia sempre di andare su delle cose tecniche che poi la gente non capisce però io ricordo una cosa che nel libro non ho messo però l'avevo scritta tanti anni fa che secondo me è il punto di partenza di tutta questa vicenda quando fallì il Banco di Napoli quando ci fu il crack del Banco di Napoli nel 95 e lì andrebbe ricordata una cosa importante cioè che il Banco di Napoli salta nel 95 perché parte un'ispezione della Banca d'Italia mi pare all'inizio del mese di febbraio del 95 esattamente 40 giorni dopo che era morto Ferdinando Ventriglia cioè il il padre padrone di questa banca che diciamo era l'uomo della democrazia cristiana un tempo ma che poi era diventato insomma il vero padrone ed era così potente che nemmeno la Banca d'Italia pur sapendo che cosa ci fosse dentro il Banco di Napoli aveva mai avuto il coraggio di metterci il naso fino in fondo a un certo punto salta il Banco di Napoli fanno il processo e un bel giorno interrogano il vicepresidente del Banco di Napoli che era un personaggio diciamo di un certo rilievo politico era stato parlamentare eccetera e questa persona rende una testimonianza sconcertante e dice guardate io vi devo dire una cosa a me quando mi hanno nominato io ho capito subito che era un problema serio per me perché io non ci capivo assolutamente niente cioè lui dice ai giudici io non sapevo niente di questo non avevo idea di che cosa fosse una banca non lo sapevo ero lì semplicemente perché ero stato indicato da De Mita no? allora adesso uno dice che cosa è cambiato da allora a oggi la risposta è sconcertante perché è cambiato molto poco questo è il punto vero e nella storia del monte di Vaschi di Siena cioè se ne ritrovano tantissime di queste storie di persone che non sanno niente di banca però che vengono messe lì perché devono a un certo punto nel 2009 dopo che c'era questo boccone dell'Anton Veneta che stava su Gozzo non riuscivano a mandarlo giù e anzi cercavano di tappare in tutti i modi le buchi che in frattempo venivano fuori devono rifare il consiglio di amministrazione della banca ed è bellissimo leggere le testimonianze che sono state rese davanti ai giudici dove hanno raccontato i protagonisti di come fu fatto il rinnovo dei vertici di quella banca lì che già si sapeva che stava sostanzialmente seduta su una polveriera viene fuori che la parte della ex Margherita del PD si lamenta perché non c'è abbastanza poltrone che devono sistemare evidentemente qualcuno allora fanno tutta una trattativa per cui alla fine gli danno una poltrona in più allora anche quella della parte ex DS del PD dice no ma allora anche noi e quindi aumentano il numero di consigli di amministrazione semplicemente perché devono dare un posto in più a una rappresentante di una corrente e un posto in più al rappresentante dell'altra corrente dopodiché uno deve anche vedere chi sono queste persone perché uno dice magari erano dei geni incompresi che erano stati messi lì ma erano dei ex politici anche un po' in qualche caso rimbambiti qualcuno poi addirittura figlio di politici perché a un certo punto spunta fuori anche il figlio di un ex ministro ma perché l'ex ministro era stato rettore dell'università di Siena ed era così potente che condizionava e quindi questo qua che faceva l'assessore in Sardegna lo mettono nel consiglio di amministrazione della banca Anton Veda che uno dice scusate ma che cosa c'entra è il figlio di quel personaggio lì poi vai a vedere chi sono questi qua scopri che non ce n'era uno che avesse un'idea di che cosa fosse gestire una banca addirittura il il consigliere indipendente perché essendo quotato in borsa il Montepaschi di Siena aveva anche dei consigliere indipendenti allora quando devono nominare il consiglio indipendente dice ma chi ci mettiamo a fare il consiglio indipendente e mettono uno che è il padre di un stretto collaboratore di Berlusconi non riesco a capire quale fosse la motivazione per avere diciamo un ex collaboratore il figlio di un ex scusate il padre di un ex collaboratore di Berlusconi nella consiglia di amministrazione di una banca ma anche perché poi Berlusconi stesso aveva designato un suo rappresentante all'interno della banca e quando vedi quel consiglio di amministrazione capisci che in realtà il mercato non c'è questo è il punto vero il mercato non c'è c'è una banca la terza banca italiana quotata in borsa non ha diciamo nessun tipo di affaccio sul mercato attraverso i suoi amministratori non c'era una persona lì che fosse addirittura quando l'amministratore delegato scusate il presidente e l'amministratore delegato direttore generale si presentano a parlare con l'ex amministratore delegato dell'Anton Veneta per capire che cos'era la situazione di questa banca quello lì sconcertato finita la riunione dice io mica non ho capito se questi hanno capito che cosa stanno comprando e quanto la stanno pagando cioè non avevano neanche un'idea di che cosa dell'operazione che stavano facendo e lì tu capisci che le responsabilità sì sono della politica locale perché poi il Monte di Paschi di Siena è una banca ma rimani veramente sorpreso dalla come dire dalla leggerezza con cui un'operazione di questo tipo che quella che attenzione questa è un'operazione che ha che ha scosso dalle fondamenta del sistema bancario italiano e in parte anche quella internazionale perché non ci dimentichiamo poi tutte le ripercussioni che ci sono state a valle la leggerezza con cui gli organi di vigilanza hanno dato le varie autorizzazioni a fare questa operazione qua cito soltanto un caso e non della Banca d'Italia il tesoro dello Stato ha una competenza importante ha una competenza di vigilare sulle fondazioni bancarie in particolare il tesoro deve dare l'autorizzazione agli aumenti di capitale di queste fondazioni quando le fondazioni fanno delle operazioni finanziarie devono chiedere permesso al tesoro non alla Banca d'Italia al tesoro allora al tesoro c'è una e lì c'è una regola negli statuti no nel caso Montefaschisina la regola diceva che tu non potevi indebitarti più del 20% del patrimonio che avevi in quel momento ora succede che dopo aver fatto la prima cazzata scusate il termine ma ce n'è un altro in italiano che è stato il primo aumento di capitale cioè quello con cui praticamente hanno bruciato quasi tutti i soldi che avevano in cassa per tenersi il 51% o anzi 49% più qualcosa dell'Anton Veneta scusate del Montefaschisina la fondazione siccome servono altri soldi perché nel frattempo la palla ha cominciato a rotolare avete presente la palla di neve quando comincia a rotolare quando comincia a rotolare poi arriva a un certo punto che non la fermi più nel momento in cui loro ancora pensavano di poterla fermare devono fare un altro aumento di capitale e a questo aumento di capitale la fondazione decide di partecipare ed è diciamo come dire è come quando uno decide di suicidarsi e poi per essere proprio sicuro non si spara con una pistola ma con due pistole contemporaneamente perché così è sicuro di morire fanno questa operazione però devono chiedere il permesso al tesoro e il tesoro gli dà il permesso gli dà il permesso pur ignorando quale fosse diciamo il rapporto tra i debiti e il patrimonio che andavano ad assumere con questo aumento di capitale e la cosa incredibile incresciosa se vogliamo è che l'avvocato del tesoro chiamato dai giudici a spiegare perché lui ha dato questa autorizzazione dice ma dice ma noi non sapevamo perché non avevamo non avevamo neanche la situazione patrimoniale aggiornata della fondazione cioè non avevano neanche le carte non avevano visto le carte non avevano visto i conti nonostante questo il tesoro gli dà l'autorizzazione a diciamo sostanzialmente ad azionare la seconda pistola per non parlare appunto dicevo della banca d'italia perché la cosa che ti sorprende dice vabbè ma è tutto assolutamente in regola hanno rispettato tutte le cose eccetera poi però scopri una cosa scopri che che loro avevano ben chiaro quale fosse la situazione di questa banca Anton Veneta che il Monte dei Paschi andava a comprare per un prezzo astronomico e soprattutto loro sapevano una cosa che forse Mussari non sapeva perché da quello che dice l'ex amministratore delegato di Anton Veneta forse non se ne era neanche reso conto di questo scoprono che non soltanto questa banca costa 9 miliardi cioè 9 miliardi di euro capite 9 miliardi di euro che loro si impegnano a versare senza fare una verifica dei conti senza farla di udillice d'accordo dopodiché però scoprono che siccome quella banca lì era già mezza disastrata gliele devono dare a quelli che gliela vende altri 7 e mezzo perché quelli che gli vendono la banca hanno ereditato un finanziamento che era stato concesso al Monte dei Paschi al Banco Antometa per continuare ad esercitare l'attività bancaria perché l'attività bancaria si esercita con i soldi se tu non hai i soldi non la puoi esercitare ovvio no? che cosa succede? qual è la conseguenza di questa di queste due follie cioè l'acquisto a quel prezzo e l'obbligo a restituire questi soldi che il Monte dei Paschi di Siena brucia tutti i soldi che ha cioè tutti i soldi che il Monte dei Paschi di Siena ha vengono spesi per fare questa operazione qui la conseguenza è che il Monte dei Paschi di Siena da quel momento in poi finisce di fare la banca non fa più la banca perché non ha più i soldi per fare la banca questo è accaduto e la Banca d'Italia questa cosa la sapeva la sapeva perché loro hanno fatto l'ispezione c'è la signora Tarantola che poi andiamo a vedere le carriere di tutti questi perché con tutto rispetto per la Banca d'Italia che considero un bene per la Repubblica attenzione però non si può non raccontare poi le cose come sono andate il direttore generale era Saccomanni anzi il governatore era Mario Draghi il direttore generale era Fabrizio Saccomanni che poi è diventato ministro del governo Letta il capo della vigilanza era Anna Maria Tarantola che poi è diventata presidente della RAI cioè quindi parliamo di persone che in qualche modo sono diventate il nocciolo duro della della classe dirigente di questo paese no? non erano proprio persone che passavano di lì per caso eppure sono loro quelli che hanno secondo me che è una superficialità incredibile considerando come la Banca Italia è sempre stata precisa nelle sue cose che hanno fatto partire un treno che era un treno destinato ad andarsi a schiantare ad eragliare in un modo incredibile anche perché anche perché e qui poi c'è un altro diciamo ulteriore elemento che dimostra la follia la follia la pazzia con cui è stata gestita quella banca questi questi pazzi perché io sinceramente non saprei come definirli diversamente avevano fatto una bella operazione cioè hanno comprato avevano acquistato 27 miliardi di euro di titoli di Stato cioè attenzione questi qua comprano la banca Anton Veneta per 9 miliardi però poi non contenti comprano anche un sacco di titoli di Stato perché ovviamente devono poi siccome il tesoro gli ha dato l'autorizzazione e la Banca Italia pure devono dare qualche cosa in cambio e quindi comprano titoli di Stato lo Stato ha bisogno di qualcuno che li compri i titoli e loro li comprano però 27 miliardi sono un po' tanti anche perché poi nel 2011 che succede che lo spread va a 574 quindi il valore dei titoli di Stato crolla e loro devono registrare le minusvalenze nel bilancio quindi loro in un anno nel 2011 il Monte dei Paschi di Siena perde 8,2 miliardi di euro allora di fronte a questa cosa tu che giudizio puoi dare io poi adesso ti do la parola perché non voglio neanche rimbambire la platea però voglio dire il quadro che ne esce fuori è il quadro di una classe dirigente fortemente condizionata dalla politica probabilmente anche non all'altezza anzi sicuramente non all'altezza della situazione che è stata per ragioni politiche perché poi la banca Monte dei Paschi doveva essere no cioè in qualche modo rappresentava un potere un potere finanziario legato alla politica in qualche modo e e poi diciamo c'è scendendo giù l'incapacità e l'assoluta mancanza di professionalità delle strutture intermedie della banca perché questo è anche un altro aspetto no cioè i dirigenti i dirigenti di questa banca erano purtroppo il portato Siena è una città di 46.000 abitanti dove è rimasto bisogna per capire la storia del Monte dei Paschi bisogna capire anche cos'è Siena Siena è una città che quando voi arrivate da fuori vedete lo stesso skyline che si vedeva nel 500 cioè ma è fantastica questa cosa perché tutte le città italiane hanno avuto nel dopoguerra sono state aggredite dall'edilizia tutte Siena è miracolosamente una delle pochissime città italiane che è rimasta più o meno come era tu la vedi ancora così quando arrivi da lontano la vedi quel campanile meraviglioso di Piazza del Campo cioè è così e questo ti fa capire che cosa ti fa capire che loro sono talmente attaccati alla logica del del tempo delle contrade del passato della tradizione che sono disposti a fare qualunque cosa cioè si ammazzano dopo il palio però poi se qualcuno tocca la città di Siena sono pronti a coalizzarsi tenete presente che il monte di Paschi Siena è una banca che aveva 4.000 dipendenti tutti a Siena cioè il 10% della popolazione di Siena lavorava al monte di Paschi tutti i sindaci di Siena sono dipendenti del monte di Paschi Siena tutti e tutti quanti una volta che avevano finito di fare il sindaco poi tornavano in banca promossi ovviamente il sindaco di Siena controlla la fondazione che controlla la banca quindi il dipendente della banca che decide le sorti della banca cioè però sì questo è perfetto è assolutamente tutto perfetto tra l'altro Anton Veneta venne strappagata senza due diligence perché in quel momento c'era un mercato dell'M&A quindi delle acquisizioni che era caldissimo era proprio la parte finale di una vera e propria sbornia di acquisizioni con multipli elevatissimi avviamenti elevatissimi quindi siccome al monte Paschi la politica chiedeva di essere predatore e in nessun caso preda ecco che Botin come è magistralmente narrato nel libro diciamo va a offrire il capo supremo di Banco Santander è uno legato all'Opus Dei perché poi c'è tutto un contesto intorno a Botin non è che è uno così cioè Botin è un personaggio che viene da da prima della guerra civile spagnola cioè sono famiglie che hanno fatto delle fortune immense e che si sono trovate questa famiglia Botin si è trovata per ragioni anche non troppo lontani da interessi politici attenzione si è trovata a essere un po' il cuore finanziario della Spagna poi Botin è finito dentro la lista Falciani cioè è gente che diciamo i soldi li sapeva maneggiare non erano sproveduti e poi loro fecero la scalata del secolo perché lì tutto nasce la cosa che noi siamo qui a parlare delle vicende Antonella e Montepaschi ma in realtà tutto nasce da da un'operazione gigantesca che viene fatta nel 2006 2007 che era scalata alla BN AMRO fatta dalle più grandi banche europee e lì sono volati i soldi 72 miliardi di euro mi pare che fu l'importo di quella di quella scalata lì e il grande guadagno fu fatto proprio da Botin che aveva pagato la banca Antonella l'aveva pagata 6 miliardi più o meno anzi ho fatto il conto di 5 miliardi e mezzo e l'ha rivenduta a 9,3 al Monte dei Parchi ma questo in 20 giorni dopo averla splittata di Interbanca sì ma voglio dire io una volta ho fatto un conto dopodiché l'ho dovuto espungere dal libro perché se no gli avvocati quando hanno riletto mi hanno detto ma forse questo paragone è un po' forzato ho visto che l'unica cosa che rende allo stesso modo è il traffico di eroina cioè soltanto il traffico di eroina rende quelle cifre lì in quel tempo lì infatti quindi Botin va da Mussari e gli dice sbrigati perché io prima o poi questa banca la vendo allora Mussari diciamo pressato dall'esigenza di entrare nella storia cittadina e della politica anche romana perché lui era un grande finanziatore a titolo individuale del suo partito di riferimento getta il cuore oltre l'ostacolo col cuore getta anche tutta la banca e un sacco di vite legate alla banca tra le altre cose quindi all'inizio si è parlato di megatangenti miliardari io personalmente e questa è ovviamente una mia posizione personale credo che sia trattato proprio di un atto di sprovedutezza estrema nello strapagare nella fase finale di quella che era l'ubriacatura delle attività di grande finanza straordinaria prima che la grande crisi partita dagli Stati Uniti travolgesse anche l'Europa tra l'altro parlava prima Sergio del discorso dell'ubriacatura da titoli di Stato del Monte Paschi oltre che per motivi di relazione diciamo per far vedere al tesoro che loro erano come dire bravi scolaretti questa operazione fu creata a leva cioè praticamente ci si indebitava poi si compravano BTP a 10 a 30 anni che hanno una durata finanziaria tale per cui se i tassi scendono si fanno guadagni davvero importanti mettendoli a leva ma vale anche il contrario se i tassi salgono ad esempio per motivo di spread si viene uccisi e quindi il Monte Paschi cercò con questa attività di finanza proprietaria fatta sui titoli di Stato di tentare disperatamente di mettere tutte le dita nelle famose crepe della diga che si stavano allargando e ampliando cioè di derivare una sorta di redditività extra caratteristica nel momento in cui la redditività caratteristica della banca cioè quella che derivava dal fare banca stava cominciando a battere in testa ed aveva seri problemi per quanto riguarda il discorso della inadeguatezza dei consigli di amministrazione e anche del conformismo di tutte le prime le seconde le terze le quarte linee di comando perché su quello c'è il sistema di incentivi sul conformismo e sull'acquiescenza quella banca ha rappresentato il modello perfetto di come si fa a fare demeritocrazia in questo paese e questo è oggettivo posso aggiungere una cosa secondo me qui è opportuno spiegarlo perché se no non si capisce perché quel libro lì ha quel sottotitolo esiste un filo esiste un filo rosso che lega tutte queste vicende le lega attraverso parliamo di Montepaschi Banca Etruria Cassacchieti Popolare Vicentina Veneto Banca c'è un filo proprio filo un filo che corre sulle persone allora io mi ricordo nel 2014 o 2013 forse venne invitato a fare un'intervista pubblica a Profumo che era appena arrivato al Monte dei Paschi a Siena una bolgia tantesca vi potete immaginare che cos'è no c'era già la crisi era appena morto Davide Rossi tra l'altro ed era una situazione come questa ma il doppio diciamo di e c'era una mi ricordo questa fila centrale a un certo punto vedo un signore con una sedia a rotelle che si fa largo e arriva davanti dove eravamo noi a discutere no e guarda a Profumo prima gli dice ma io sono stato nella deputazione e dice vorrei sapere una cosa vorrei sapere che ne sarà di Basilichi io dico guardo ma chi è questo Basilichi e lui mi fa e gli dà una risposta molto così dopodiché mi fa e dice ma non sai cosa è Basilichi è una società che ha 800 dipendenti ed è una società che fa gli strumenti elettronici cioè fa tipo il banco mat del Monte dei Paschi diciamo una roba del genere ecco dopodiché allora Basilichi tu vai a vedere la sua storia recente scopri che nel consiglio di amministrazione di Basilichi a un certo punto spunta un signore che si chiama Marco Garrai poi dici non è l'unico perché c'è anche una signora che si chiama Antonella Manzi che è stata poi presidente della fondazione del Monte dei Paschi di Siena ma dove stava lei in quel momento lì era presidente di una banca di un'altra banca che si chiama Banca Federico del Vecchio che è controllata da Banca Etruria poi lei passa da Banca Etruria di fatto al Monte dei Paschi di Siena nella Basilichi se uno va a vedere gli azionisti ci sono tutti Monte dei Paschi Banca Etruria Vicentina eccetera eccetera tutti quanti lì dopodiché vai a vedere Banca Etruria Basilichi controlla a sua volta un consorzio che si chiama Consorzio Triveneto che fa una cosa simile fa un'attività diciamo nello stesso settore guardi le cariche presidente del collegio sindacale Emanuele Boschi cioè il fratello di Maria Elena che era dipendente fino a quel momento di Banca Etruria perché lui è stato un dirigente di Banca Etruria il fratello quindi non solo il padre ma anche il fratello esce da Banca Etruria va al consorzio Triveneto di Basilichi e contemporaneamente entra nello studio Bonifazzi Bonifazzi è il tesoriere del Partito Democratico tesoriere del Partito Democratico messo nella commissione banche dopodiché vai a vedere la fondazione Open che la fondazione Open è quella di Matteo Renzi che è l'unica guardate e di questo bisogna rendere merito a Renzi perché è l'unica fondazione politica che pubblica la lista dei finanziatori non di tutti non di tutti un buon percentuale non di tutti perché pubblica soltanto i nomi di quelli che hanno dato il consenso ad essere pubblicati va bene però piuttosto che niente meglio piuttosto se pensiamo che le altre proprio non ne pubblicano ma è interessante vedere che cosa c'è in questa lista e che cosa c'è in questa lista c'è Basilichi tra i finanziatori c'è Basilichi la società e ci sono quelli della famiglia Basilichi Leonardo Basilichi eccetera eccetera diciamo scusa Sergio una cosa posso interrompire diciamo che Basilichi oltre ad avere il monte tra gli azionisti lo aveva anche tra i grandi finanziatori lo aveva anche tra i grandi finanziatori certo già questa cosa come dire non suona benissimo no allora poi tu vai a vedere e tu cominci a a tirare questo filo e vedi che questo filo in realtà è un filo che collega è come quando tu quelle cose che fa la settimana che faceva la settimana in mythica collega i puntini avete presente e viene fuori il disegno e poi vai a vedere che cosa facevano questi e scopri che ne so per esempio che un bel giorno veneto banca questo consoli che era un diavolo scatenato perché veramente era un diavolo scatenato questo consoli per un bel giorno decide di fare la scalata a Banca Etruria ma non lui decide che i suoi clienti devono fare la loro scalata o comunque devono costituire un pacchetto di azioni pronto per essere utilizzato quindi lui finanzia dei suoi clienti a Montebelluna capito? cioè treviso perché comprino azioni di una banca che sta ad Arezzo no quindi questo già ti fa capire che c'è qualcosa che non funziona e poi la storia della popolare vicentina cioè vai a vedere vai a collegare tutti i punti e scopri che in realtà tutto questo mette ti dà uno scenario incredibile dove tu hai delle persone che sono chiaramente tutti in conflitto di interessi tutti o quasi in conflitto di interessi perché giustamente come diceva come diceva lui c'è il problema degli imprenditori che fanno i banchieri no e quindi se uno fa l'imprenditore e poi fa il banchiere contemporaneamente fatalmente cioè finisce per dare i soldi a se stesso che sono i soldi poi di quelli che li vanno a portare lì risparmio poi se tu in più lo fai lo fai con i tuoi amici e lo fai senza trasparenza lo fai senza controlli e lo fai magari con la benevolenza dell'organo di vigilanza che tanto dice no ti guarda perché sa che tu puoi comunque essere utile e funzionale a un certo disegno di aggregazioni eccetera come era il caso appunto della banchatoria beh allora lì veramente puoi fare di tutto la banca popolare vicentina ed è la cosa che mi ha diciamo lasciato più sorpreso quando ho cominciato a leggere gli atti della commissione parlamentare sulle banche sorprendendomi anche del fatto che certe cose non siano mai state riportate dai giornali la banca popolare vicentina ha fatto operazioni di finanziamenti basiati cioè davano soldi ai clienti che non restituivano i finanziamenti che avevano avuto ma gli davano altri soldi non perché questi li impiegassero nell'attività economica della propria impresa ma perché ci comprassero azioni della banca perché questo? perché siccome con l'aumentare delle sofferenze la situazione patrimoniale si deteriorava avevano bisogno di risorse e queste risorse naturalmente le potevano reperire molto facilmente con i soldi degli stessi risparmiatori cioè trasformavano i prestiti in capitale fondamentalmente questo facevano che è una cosa assurda folle pazzesca lo hanno fatto la popolare vicentina per un miliardo e 87 milioni di euro ma la cosa che sorprende di più in questa storia è il numero delle persone che si sono prestate a fare questa cosa qui ne hanno trovate 1225 cioè 1225 affidati della banca che si sono prestati a essere finanziati per comprare azioni della banca questa cosa non è di poco conto perché perché quando tu finanzi un imprenditore di solito ti fai dare delle garanzie no? poniamo c'hai lo stabilimento ti fai dare lo stabilimento c'hai un appartamento ti fai dare l'appartamento insomma hai delle garanzie di solito le banche chiedono garanzie reali in questo caso quali sono le garanzie le azioni della banca che poi diventano zero quindi quei soldi implode sono spariti sono soldi dei risparmiatori che sono spariti e qui poi si potrebbe fare anche diciamo una notazione un po' critica su come queste vicende vengono presentate più che dalla stampa diciamo dalle televisioni perché io ho assistito a dei servizi televisivi dove si dà sempre la colpa allo Stato allo Stato allo Stato la colpa dello Stato come se lo Stato avesse il dovere di rimborsare quelli che hanno perso i soldi investendoli in un'attività fondamentalmente privata perché le banche come è noto sono o dovrebbero essere private e qui oggettivamente lo Stato proprio non c'entra nulla diciamo che si è fatto anche un uso un po' demagogico di queste notizie per molto per mettere la croce addosso a certi politici per carità che forse se la meritavano pure però magari non in quel modo lì io sono convinto che su questa cosa qua molti risparmiatori ci hanno rimesso l'osso del collo fidandosi ma ce ne sono anche un bel po' che ci hanno rimesso l'osso del collo pensando che forse potevano farci un po' di soldi no? tra l'altro io vorrei segnalare visto che siamo quasi avviando alla conclusione che sulla vicenda di Vicenza cioè dei finanziamenti baciati l'inizio della fine per il giochetto è avvenuto per opera della Banca Centrale Europea quando la Banca Centrale Europea entrò nella supervisione della Banca e usando un team di ispettori fornito dalla Banca d'Italia scoprì le baciate e impose di sterilizzare la parte di capitale che derivava dalle baciate perché era praticamente un buco patrimoniale e una consistenza patrimoniale fittizia quello fu l'inizio della fine perché la sterilizzazione di questa porzione patrimoniale derivante dalle baciate destabilizzò la popolare di Vicenza e iniziò la famosa palla di neve che diventa valanga cosa voglio dire con questo che la BCE sono bravi la Banca d'Italia no allora io voglio dire che la supervisione della BCE aveva i denti e quindi mordeva la supervisione della Banca d'Italia molti ispettori della Banca d'Italia si erano già accorti negli anni precedenti che qualcosa non funzionava e c'erano stati come riportato nel libro dei rapporti ispettivi estremamente critici con la richiesta di azioni correttive ma la supervisione della Banca d'Italia alla fine non aveva i denti perché la Banca d'Italia comunque forse per autocensura si fermava un attimo prima di far saltare il sistema ecco perché la Banca d'Italia e oltre il tesoro ma anche la Banca d'Italia pur avendo come dire più volte rampognato il Monte Paschi negli ultimi anni non ha mai realmente potuto dire adesso qui ti fermi perché non era più possibile fermare un treno in corsa lanciato in questa maniera quindi questa è una storia di connivenze di legami strani di un potere politico poi diciamo che l'autorizzazione alla fondazione Monte Paschi a indebitarsi venne data se ricordo bene quando al tesoro c'era Giulio Tremonti se ricordo bene o a cavallo o c'era o c'era mi pare che ci fosse già Grilli non mi vorrei sbagliare come ministro? era direttore generale forse era precedente forse c'era perché mi pare che sia un'operazione che viene fatta verso la fine del 2011 siamo proprio secondo me a cavallo siamo nella fase di passaggio ma poi sai Tremonti adesso io per quel che lo conosco è piuttosto bene penso che lui lasciasse molto fare cioè non è uno non mi sembrava uno così sai ti rifiuti di Grilli e Grilli poi si fidava a sua volta dei dirigenti del tesoro perché poi avviene tutto a cascata non è che basta per dirti come funzionava questa roba c'è la vicenda della 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 Goldman Sachs che non c'entra niente con la storia delle banche no ma è quella quella storia per cui a un certo punto siamo alla fine del 2011 sta avvenendo giù tutto la Goldman Sachs che cosa fa? chiede il rimborso di circa 2 miliardi o 3 miliardi di euro la morga Stanley scusami la morga Stanley e e questa cosa questa cosa rischia di mandare in crisi i conti pubblici perché questi devono dare istantaneamente qualcosa come 3 miliardi di euro e poi vai a vedere la storia di quei derivati che erano stati innescati nel 1995-94 addirittura e scopri delle cose incredibili cioè che i vari ministri che si sono succeduti tutti quegli anni nessuno di questi ha mai capito che quella lì era una bomba che sarebbe scoppiata e ti domandi ma quelli che fanno questo mestiere ma non lo sanno che se fanno un derivato come quello lì non è che le banche fanno beneficenza ma la Morgan Stanley fa beneficenza? non credo abbia mai fatto beneficenza ha uno stato sovrano? va a fare beneficenza? non credo infatti ci abbiamo rimesso 3 miliardi quindi da questo punto di vista ti viene in mente che lì ci sia un problema proprio di qualità di questa classe dirigente lì ma questi che fanno questo lavoro qua ma io mi domando la banca d'Italia nel marzo del 2008 quando gli dà l'autorizzazione al Monte dei Paschi ma nel marzo del 2008 in America è già successo un casino perché non ci dimentichiamo che c'è già stata la crisi del subprime in America ci sono tutti segnali che sta per succedere a un macello la Lehman Brothers salta per aria a settembre se non sbaglio quindi pochi mesi dopo ma io dico ma se tu sei pagato per fare quel lavoro lì avrei anche come dire sarei anche pagato non dico prevedere perché non c'è la palla di vetro ma per avere un'idea di che cosa può accadere nel mercato in quella situazione lì e non ti viene in mente di dire attenzione però forse ma soprattutto di dire a questi volete comprare una banca per 9 miliardi e fate un aumento di capitale fate un aumento di capitale serio e non fate il chi anticlassico ma lo sapete che hanno fatto? esatto cioè hanno fatto delle cose cioè hanno fatto siccome gli mancavano dei soldi hanno fatto un'operazione ma pensate come l'hanno chiamata l'hanno chiamata chi anticlassico capite? perché evidentemente erano briachi quando l'hanno ma non c'è proprio nessun'altra motivazione cioè hanno venduto tutte le filiali le mura del Monte dei Paschi a se stessi cioè a una società loro da cui formalmente dopodiché le hanno riaffittate allora Banca Italia gli ha detto scusate ma almeno fate una cosa fingete meglio allora passano alle coop cioè passano la società alla manuta in coop capito? allora tu di fronte a una cosa di questo tipo gli dovrei come minimo cioè lì la prima cosa che devi fare è chiamare il 118 la seconda è il 113 cioè non è che ci sono molte alternative ma le devi mandare sia a Roccasalimbeni che a Via Nazionale perché voglio dire ma come ti viene in mente di autorizzare un'operazione come quella è quella del Fresh il famoso Fresh? sì 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 cioè fantastica se gli mancava un miliardo perché un miliardo si trova come sapete gli mancava un miliardo gli mancava un miliardo chiamano una banca americana e gli dicono vabbè JP Morgan facciamo questo aumento di capitale allora questi che fanno sottoscrivono l'aumento di capitale di un miliardo però non è che i soldi li cacciano loro emettono delle obbligazioni che vendono sul mercato per prendere questo miliardo che gli serviva per fare l'aumento di capitale ovviamente a parte che Metale sottoscrive la fondazione ma il resto tu dici come lo paghi l'interesse perché poi le obbligazioni devi pagare l'interesse come paghi l'interesse? ma è semplicissimo affittando le azioni al monte dei paschi esatto cioè che tu già semplicemente per come te lo prospettano adesso lasciamo perdere ma se a me viene uno io che non ci capisco niente di questa roba ma se viene uno a dirmi guardi mi voglio comprare una banca facendo questa cosa qua io dico no sei un pazzo ma proprio basandomi sul buonsenso la banca d'italia gli dice di sì salvo poi dopo sei mesi accorgersi che c'era e diciamo diciamo anche a monte cosa ci sta il fatto che la fondazione non aveva i soldi sufficienti e però non aveva alcuna intenzione di scendere sotto il 51% quindi e pensate che una legge cos'era la Amato Ciampi obbligava perché in Italia si obbligano e però vengono disapplicate per cui la cogenza si perde le fondazioni a scendere sotto una determinata quota della banca conferitaria perché non si possono mettere tutte le uova nello stesso paniere di questo la fondazione Montepaschi se ne è altamente sbattuta per un ventennio quando è successo il casino io ho dovuto leggere una dichiarazione di Giuseppe Guzzetti presidente dell'Acri quindi delle fondazioni bancari italiane uno dei grandi vecchi della finanza italiana dire la fondazione Monte dei Paschi di Siena è fuori legge perché in vent'anni non è mai scesa sul livello di proprietà nella banca conferitaria che prescriveva la legge ma sarò stato io a impedire alla fondazione di scendere sotto quel livello il casino è nato un malinvestment come dicono gli americani diciamo quindi errori clamorosi di valutazione dell'investimento ma soprattutto il fatto che la fondazione non riteneva di farsi diluire perché doveva controllare la banca al 50% e un'azione da lì è iniziato tutto incompetenza protervia disapplicazione della legge e tutti si sono voltati dall'altra parte l'ultima notazione perché stiamo finendo è ancora sulle persone perché tutto questo bisogna ricordare chi erano questi il capo della fondazione Monterevarchi di Siena quando decidono questa operazione qui si chiama Gabriello Mancini Gabriello Mancini è stato uno della democrazia cristiana ma soprattutto non è una persona che ha un potere vero perché il potere vero ce l'ha un altro signore che si chiama Alberto Monaci che è il capo della democrazia cristiana di Siena nonché poi capo della Margherita per darvi un'idea del potere che aveva questo questo ha piazzato il fratello fratello minore certo Alfredo Monaci a fare il capo dell'immobiliare del Monterevarchi Siena l'immobiliare del Monterevarchi Siena è una cosa diciamo gigantesca sono miliardi di euro di valore questo signore che era il capo di una roba del genere va bene se voi andate a vedere il suo curriculum questo qui è diplomato in ragioneria credo no forse neanche Mancini è ragioniere sì ma ha preso il diploma a 22 anni no questo per dirvi diciamo qual era il livello di quelli che gestivano questa roba qua e faceva il dirigente dell'ASL e faceva il dirigente di una azienda sanitaria locale questo è la cosa allora e qui io per quanto mi riguarda concludo questa storia delle banche è proprio cioè come quando si prova il cocomero avete visto come si fa si fa il tassello per vedere se ecco questo è il tassello questo è il tassello lo tirate fuori e vedete che cos'è che cos'è il sistema bancario e finanziario italiano purtroppo io la sensazione che ho è che non sia finita qua cioè che non sia finita qua perché ci sono tante altre situazioni di questo tipo in giro per l'Italia che rischiano di fare la stessa fine e purtroppo noi abbiamo degli organi di vigilanza che diciamo non sono proprio pensate che adesso c'è la questione del presidente della Consob lo sai no? Sì come no e come no che siccome lui non si vuole sganciare dalla commissione europea ha chiesto l'aspettativa gli ha dato per tre anni è distaccato però dura sette non si capisce la Consob non c'è neanche ieri Mattarella ha firmato il DPR vediamo come finisce è una cosa demenziale cioè tu hai un organismo così delicato e non senti il bisogno di dire ma io vado sette anni lì ma con grande onore a servire la Repubblica in un settore così delicato no non si fida del paese e allora ha bisogno di tenersi agganciato alla commissione europea perché poi in ogni momento può dire se vedete c'è di nuovo e me ne torno a Bruxelles ma non si può fare questa cosa no? Evidente dopodiché ancora stiamo aspettando una normativa che li costringa a parlare cioè a parlare capite? perché qui sono raccontate delle storie io quando le ho scoperte leggendo le carte della commissione di parlamentare ma sono rimasto sbalordito a un certo punto una banchetta Cassa Ferrara fanno un aumento di capitale devono fare un aumento di capitale perché hanno scoperto che il 60% dei crediti sono deteriorati 60% la banca d'italia dice ma guardate che dovete fare un aumento di capitale però attenti perché non è che potete vendere sta roba alla gente così dovete fare l'aumento di capitale scegliendovi degli investitori istituzionali che danno una garanzia poi magari un domani se siete nei guai che questi rimettono altri soldi ok li manda questo prescrizioni alla banca ma non le manda alla Consob per cui quando questi fanno il prospetto informativo la Consob glielo approva ma non sa che la banca d'italia ha detto che non possono vendere le azioni ai cosi e questo semplicemente perché la banca d'italia non l'ha detto alla Consob perché la banca d'italia non ha il dovere di dirglielo ma ha il dovere di dirlo alla banca pensando che poi la banca lo dice alla Consob e voi immaginate che la banca l'ha detto alla Consob ma figurati e hanno fregato 150 milioni così allora noi abbiamo terminato grazie a tutti grazie soprattutto a Sergio Rizzo grazie una comunicazione scusate comunicazione di servizio per la firma delle copie del libro di Sergio è in Atrio dove c'è l'area dell'ENI grazie e buonasera a tutti grazie a tutti grazie a tutti